Essere felici è una delle cose che diminuisce di gran lunga l'impatto ambientale Perché se ci pensi Più sei infelice, più cercherai di riempire quel buco dentro Consumando Questo è vero Trovare qualcosa che ti rende felice nel tuo piccolo Il consumismo si basa in questo Ti deve produrre un'infelicità che devi scolmare con il nostro prodotto Muschio senato Vodka sputico Federico Martì Muschio, microfono, videocamere, luci Ospiti diversi, senti nuovi amici 20 minuti, un'ora di argomenti Impredibilità, giochi, l'aripotenza, risate, pianti, rispetto, sincerità e approfondimenti Siamo negli anni venti Muschio selvaggio Gigolo massaggio Benvenuti a una nuova puntata di Muschio selvaggio Oggi siamo galvanizzati Luis non potete vederlo perché sta facendo il presepe ma anche lui è molto galvanizzato Credo che si stia depilando Sì, per essere più aerodinamico Perché è una puntata nuova in cui ho conosciuto per la prima volta di persona il nostro montatore Che ci parlavo da due anni su Whatsapp E oggi abbiamo la regia live In realtà non so, forse ci siamo Ma che c***o Ma sei una testa di c***o Ma porca p***a Scusate È a salve Ma f***o Era una pistola a salve Era per fare un ciao capito Salve Mi ha volato un bossolo Non vedo di farti ciao pure io Scusate, stavo caricando l'arma Stavamo dicendo Prego, prego No, ormai vi sapevo Vabbè Puntata nuova Setup nuovo Muschio tutto nuovo E con noi Ospiti oggi Barbascura E Adrian Fartade Yeah Adrian è con noi per la prima volta Per la prima volta È il primo ospite che è qui per la seconda volta E due divulgatori Sì In una botta Due divulgatori Complimenti Ma perché? Posso raccontare perché Siamo qui Oggi Mi è venuta in mente questa puntata Vai spara Ho messo una maglietta a tema La scelta mio figlio in realtà non è a tema Perché guardando l'intervista di Barbascura con Shy Come si chiama? Breaking Italy Podcast E a un certo punto hanno parlato della fine del mondo E io mi sono cagato sotto E ho detto Ma usiamo muschio selvaggio per salvare il mondo Bravissimo Un applauso per favore Vi potete fare un applauso Grazie Allora oggi venendo in qua In questa ventosa giornata milanese Il tassista ha iniziato a dirmi Odio il freddo Finalmente arriva un po' di caldo E io gli ho detto Ah con il riscaldamento globale E lui Magari E abbiamo iniziato a parlare della fine del mondo E lui mi diceva Io sono comunque molto scettico di quello che sta accadendo in questo momento Se devo essere sincero Non ci credo Che iniziando a guidare elettrico Anche perché poi la transizione all'elettrico non sarà facile Perché nel mio garage ci sono 400 macchine Figurati mettere 400 colonnine sotto Le batterie Le batterie E poi in sintesi diceva Io sono rassegnato Cioè cosa possiamo fare in questa situazione Che è un po' la filosofia Che quando abbiamo iniziato questo podcast E ci è capitato di affrontare il tema Ho sempre adottato Cioè Mi sembra inevitabile E da quello che ho sentito dire Anche da voi Adrian lo trova Io volevo anche Adrian perché lo trovo più positivo Quindi fammi capire Hai paura di rimanere solo con me Facevi molto bene Io sono qui per portare caos e distruzione Distruggere completamente la tua anima Però trovo interessante secondo me Comprendere innanzitutto in che situazione siamo E non si riesce a capire Cosa effettivamente potrebbe accadere Cosa effettivamente accadrà a questo punto Mi viene da dire Possiamo dirlo? Beh sì accadrà Anche perché sulla traiettoria a cui siamo Il clima Ha un po' di lag Come se fosse un videogioco in cui fa qualcosa E ci vuole un po' Per cui Anche se noi smettessimo ora subito Di emettere qualsiasi cosa I umani Scompaiono dal pianeta Il pianeta continuerebbe a riscaldarsi per ancora un po' Molto probabilmente Con le nostre attività Anche nel migliore dei casi Sfioreremo quasi due gradi di riscaldamento E questo porterà di sicuro A danni da qui a 2100 E andando avanti Saranno secoli interi In cui si sentiranno ancora i danni Quindi anche nel 2300-2400 Ancora sentiranno l'influenza Di quello che abbiamo fatto Ma quando vedi Quando poi uno dice 2100 Dice Ma che cazzo me ne frega Parliamo invece Della stretch Parliamo dei momenti più vicini a noi Mi spiegate Oggi Questa cosa Della Quel gradino in più Che se va su È un casino Me lo volete spiegare? Guarda il modo migliore Posta bene la domanda Perfetto I divulgatori Siete voi No comunque Prima di spiegartelo Ci tengo a dire Che questo è anche il mio approccio Cioè io butto terrore sulle persone Ormai Trauma puro Ma perché Io sto vivendo Penso che tutti noi stiamo vivendo La situazione In cui ci troviamo Un po' come se Fossimo su un aereo Che sta precipitando Noi ci guardiamo a fianco E invece di trovare gente disperata Che urla E va in panico Troviamo un tizio Che ti offre una canna E ti dice Uè frate Non ti preoccupare Ma forse non ci schiantiamo Ma vaffanculo Cioè lo prendi a schiafi La situazione in cui ci troviamo adesso È questa Dove c'è troppo relax E la gente sta puntando troppo Ed è umano Poi ti racconto anche come la vivo io la cosa Perché io la vivo in maniera abbastanza conflittuale E cerca di trovare conforto Nel futuro E nella scienza Dicendo Dicendo vabbè Ma tanto gli scienziati Risolveranno loro E' un po' la sindrome di Armageddon Noi persone normali Cosa possiamo mai fare? Io non c'entro niente Qualcuno faccia qualcosa Armageddon Mandiamo cinque petrolieri Che si fanno esplodere Per dividere la metal meteorite Però qualcuno Si inventerà qualcosa Qualcuno si sacrificherà Ma alla fine Ci salveremo tutti Che è un approccio umano Biologicamente Inaccettabile Perché è così che funziona Che è così che campiamo Però ovviamente Con questo tipo di ottimismo Non si va da nessuna parte Ora ci troviamo Nella situazione Da giorno prima dell'esame Cioè domani Non c'è più Domani c'è l'esame Ma abbiamo preso tempo Abbiamo procrastinato Non abbiamo studiato un cazzo Non abbiamo studiato un cazzo Abbiamo l'ultimo giorno Per studiare Ma due sole cose O studiamo subito Oppure basta Quindi io ci tengo A buttare il panico Nelle persone Perché Il panico adesso è indispensabile Bisogna capire Che siamo in una situazione Di assoluta emergenza Bisogna intervenire immediatamente Non c'è più niente da aspettare Perché aspettando ancora Abbiamo sforato L'esame c'è già stato Siamo della merda Tutto quello che avverrà dopo È irreversibile Cioè sarà un progressivo Declino Delle condizioni climatiche Del pianeta Che noi Non potremmo fare altro Che A cui non potremmo fare altro Che assistere E goderci Tragmaticamente Cosa deve succedere Cioè di quanti gradi Mi spieghi proprio Io vorrei sapere Cosa deve accadere Per far succedere Questo tsunami di merda E poi effettivamente Cosa vedremo con i nostri occhi E in quanto tempo si vedrà Ecco Allora Di recente è uscito Il nuovo report Della IPCC Che è il panel internazionale Che salutiamo Cos'è la IPCC Scusate È il panel intergovernativo Per i cambiamenti climatici Che è sovvenzionato Da due enti Delle Nazioni Unite E da Inquinamento Senti Inquinamento Cos'era? Una moto fortissima Inutilmente forte Comunque ha come scopo Quello proprio di studiare Un fottio Se non tutti Gli articoli scientifici A tema Cambiamento climatico Che sono usciti Al mondo E studiare Quali sono le possibili I possibili Esiti futuri E cosa possiamo fare L'ultimo report Che tra l'altro Era incompleto Uscirà A febbraio 2022 Quindi probabilmente È già uscito Per chi sta guardando Questo podcast Ok chiaro E Praticamente Hanno già anticipato Che ci sono diversi scenari A cui andremo incontro Tutti poco belli Però ce n'è uno Che fa meno schifo Degli altri E quello a cui dobbiamo aspirare Quello a cui dobbiamo aspirare È non superare La soglia Dei più 1,5 gradi centigradi Che cazzo vuol dire Allora Ti faccio un esempio banale Vai Posso urlare a questo qua Con la moto Vai Sparagli con la pistola Gigi No no Sto scherzando Luis ti arresta Non sto scherzando Luis Vuoi prendere la moto Inquilatore Degliene quattro Dicevo Dato che ho fatto Un sacco di eventi Anche in scuole In cui devo spiegare Anche ai bambini Quale fosse il pericolo Uso lo stesso Perché non so chi Mi sta guardando Quindi probabilmente Io Quindi il tuo interrogatore È perfetto Vabbè comunque L'esempio migliore È quello di un corpo umano Al momento il pianeta È un macro organismo In cui tutte le variabili in gioco Sono interconnesse In modo estremamente complesso E a volte difficile da immaginare Cioè ogni singolo parametro È in equilibrio dinamico Con gli altri Alterarne uno Porta a una stabilizzazione Nel tempo Però se lo alteri troppo Sì Intanto la Sta volando Se lo alteri troppo Comunque porti In una situazione Molto grave In cui l'organismo Si ammala Chiaro È la situazione Che succede in un corpo umano Se tu ci pensi Il corpo umano Ha una temperatura Diciamo che Si aggira attorno ai 36 37 Dipende da individuo Grad di centilare Con un solo grado in più Di temperatura Tu hai la febbre Hai un'infezione Stai combattendo un'infezione Nella maggior parte dei casi Sì Possono esserci varie ragioni Però comunque Stai male C'è qualcosa che non va C'è qualcosa che non va Tu la vivi abbastanza pesantemente Noi in questo momento Col pianeta saremmo A che gradi Ora siamo Rapportandolo a un corpo umano Siamo quasi Abbiamo quasi raggiunto Gli 1,5 Quindi tipo come se avessimo 42 di febbre No beh lì si è morto Che cazzo ne sa Fare un parallelismo Diciamo che se partivi da 36 Sono 37,5 È una febbre con cui devi convivere per sempre Non te la auguro Comunque Io generalmente a 37,5 Mi accascio sotto il divano Inizio a chiamare un'ambulanza Accusando dolori del parto Quindi voglio dire Un altro grado in più Sto abbastanza male Quest'anno ho sperimentato I 39,8 È la madonna Vedi mostri Avevo le allucinazioni Battito cardiaco super accelerato Era un incubo Quello è il 2100 2150 Non lo so perché Stavo vedendo cose Tra l'altro io quando le allucinazioni Sono tipo al ritmo di musica No no Fantastico E quindi c'era un fotogramma Che cambiava ogni ritmo Un battito cardiaco Ed era un incubo Perché in pratica Vedevo immagini così Sparaflusciando Non lo auguro a nessuno Comunque sia Questa è la situazione del pianeta Il pianeta è un macroorganismo Tutte le variabili sono in gioco Se tu ne alteri una È Un'escalation E c'è un'escalation E tutte le altre Ne subiscono le conseguenze Una febbre prolungata nel tempo Porta alla morte Chiaro E tra gli scenari Che questo istituto IPC IPC Come si chiama IPC 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 Cioè Quali sono gli scenari Che hanno valutato Allora Il migliore in assoluto è se conteniamo il tutto attorno all'1,5 entro il 2100 perché loro fanno degli scenari futuri e se lo conteniamo diciamo che vedremo comunque degli effetti irreversibili che si ripercuoteranno sull'estinzione di un sacco di specie viventi ovviamente altrimenti un sacco di specie oltre che al fatto che ci saranno danni all'agricoltura desertificazione in avanza ci saranno ovviamente fenomeni climatici estremi che ci sono già adesso tsunami, maremoti, allagamenti oltre che ovviamente un sacco di altre cose brutte come ad esempio bombe di calore che ne abbiamo viste un sacco quest'anno che cazzo sono? quello che è successo in Canada ad esempio quest'anno che hanno beccato i 50 gradi no 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 avevano temperatura di 50 gradi centigradi così e infatti un sacco di anziani sono morti ma io sono stato direcente in Uzbekistan loro mi hanno raccontato che in genere in estate li fa molto caldo e arrivavano a 35 gradi centigradi ci arrivavi un salento caldo diciamo senza il vento negli ultimi due anni sono arrivati pure loro ai 50 gradi centigradi ti assicuro ai 50 gradi centigradi? ti cucini un uovo sulla pancia e cosa sono dovute queste bombe di calore? cioè come si formano? perché fondamentalmente quando si parla di cambiamento climatico specialmente riscaldamento globale dobbiamo immaginarci energia che viene intrappolata all'interno se un oggetto è più caldo i atomi di cui è fatto si muovono di più quindi tutta quell'energia che serve per riscaldare l'intera atmosfera di tutto il pianeta di un grado e mezzo da qualche parte va non è che sparisce no? quindi ai fenomeni che c'erano già prima quindi uragani o ondate di calore che possono ora avere molta più energia con cui giocare e quindi si diventano molto più estremi cioè alla fine il riscaldamento globale è dovuto al fatto che abbiamo una coperta sopra che è l'atmosfera che intrappola il calore che arriva dal sole e il calore della terra stessa lo filtra sì cioè il calore arriva dal sole e poi rimbalza sulla terra normalmente se ne andrebbe via nello spazio che tipo di particioli ci sono di gas ci sono nell'atmosfera influenzano quanto viene intrappolato quindi da una coperta è diventato uno scolapasta perché abbiamo aggiunto un gas in particolare che è fantastico da questo punto di vista a trattenere il calore che è l'anidride carbonica e più ne aggiungi più l'atmosfera intrappola calore e il problema è che a un certo punto sopra un grado e mezzo entra in gioco un feedback positivo continuo per cui sciogli molto del ghiacciai e il ghiacciai e non solo anche le zone bianche che sono ai poli della terra sono zone che riflettono molto calore indietro l'effetto albedo si chiama quindi se tu ah mica tipo lente di ingardimento no è più che altro un pannello bianco che riflette la luce è come rimbalza e viene sparata nello spazio quella che dovrebbe essere invece calore che verrebbe assorbito da corpi più scuri come ad esempio le rocce e quindi che cazzo succede? e niente abbassa la temperatura la superficie è bianca se esci fuori durante l'estate con una maglietta bianca senti meno il calore rispetto a la città nera è il nostro cappellino bianco della terra se si riscalda il clima si sciolgono sparisce la coperta bianca che abbiamo e quello aumenterà il riscaldamento più aumenta più aumenta più si sciolgono più si sciolgono più aumenta è un effetto domino di merda dei mattoncini di merda di domino circolo vizioso per quello vogliamo limitarci entro un grado e mezzo poi ancora sperare che non finisca in questo loop positivo fuori dal nostro controllo faccio una domanda il peggiore degli scenari è che non è nemmeno troppo poco plausibile è 4 gradi di aumento e cosa succede? e lì praticamente ci saranno tipo più di si è calcolato che ci sarà quasi un miliardo di persone in tutto il mondo che perderanno le case perché verranno allagate perché ci sarà l'inanzamento del livello del mare ci saranno fenomeni atmosferici in modo abbastanza veloce però adesso dico una cosa voi avete detto 2100 e quindi inevitabilmente le persone che ci stanno guardando non gliene sbatterà un cazzo beh insomma 2100 nessuno saremo nonni nel 2100 saremo morti no no dai la scienza sta facendo passare giganti ma che cazzo dici? dai i 120 anni li raggiungiamo secondo me di vita noi secondo me cioè per essere accattivati cioè no ma non per essere accattivati cioè bisognerebbe per vendere la cosa per far capire quante problematiche bisogna far capire quello che noi e le persone che stanno guardando potranno vedere con i loro occhi partendo dal presupposto che 2100 sembra lontanissimo a noi tra un attimo ma in realtà è il domani certo le mie regiologiche è ovvio ma per chi deve cambiare le cose certo è abbastanza lontano per dire me ne sbatto il cazzo Leo Leo è un buon motivo i tuoi bambini sono già avranno quanti anni avranno? avranno cent'anni ma che? avranno ottant'anni 70-80 anni però però anche per loro è abbastanza tanto per sbatterse nel cazzo ma no perché tu immagini il 2100 come il punto in cui tutto inizia ma non inizia sta già iniziando per quello io dico parliamo di quello che potremmo vedere noi noi stiamo già vedendo io ti posso parlare di quello che stiamo vedendo adesso dimmelo queste bombe di calore questi allagamenti ci sono incendi entro il 2030 si stima che le terre coltivabili si ridurranno in maniera estrema specialmente nella parte del sud del mondo questo porterà un aumento ti dico delle cazzate migrazione di massa migrazione di massa perché ci sono già degli atolli che sono stati completamente sommersi quindi persone hanno dovuto trovare rifugio in altre terre ci sono stati quindi praticamente i cosiddetti profughi climatici che aumenteranno sempre di più e salutiamo quelli che faranno la calampagna e tornare anche sui profughi climatici veramente e comunque ci saranno queste situazioni qua il cibo diventerà sempre più caro perché ovviamente si ridurranno le aree coltivabili chi ne pagherà le conseguenze sono i popoli già più poveri della terra ovviamente però la situazione è destinata a peggiorare cioè parliamo proprio anche di crisi idrica perché non avremo acqua al momento noi beviamo l'acqua che si fonde dai ghiacciai o dalle montagne infatti una cosa che mi aveva stupito da Shai che dicevi che l'acqua diventerà oro liquido si chiama oro blu lo chiamano l'oro blu è la cosa più importante che abbiamo perché potresti prenderlo dal mare e usare processi di dessalinizzazione il problema è quello che fanno a Dubai per esempio richiede un sacco di energia Dubai lo dobbiamo abbattere una bomba atomica su Dubai io sono contro Dubai non lo visiterò io ho deciso io ci sono stato a Dubai e poi ho visto un video di ce ne hanno fatti tanti Vice Marcello Ascani no uno bravo di Youtube che fa divulgazione storica e geopolitica Nova Lectio Nova Lectio ho deciso che non ci vado più non ci vado più è una brutta storia quella di Dubai terribile porca puttana è tutto sbagliato esultamento schiavismo è Disneyland con i cadaveri sotto il tappeto però se guardi anche le culture occidentali anche gli Stati Uniti anche noi non è che siamo costruiti sul non siamo meglio ma infatti uno dei grandi paradossi è l'ipocrisia nella società in cui viviamo perché noi stiamo inquinando in questo momento non facendo niente perché viviamo in una società che è inquinante di base ma deleghiamo agli altri l'inquinamento per noi diciamo alla Cina fate la sporcizia e deleghiamo a loro tutto il caos e poi magari li puniamo pure perché stanno inquinando troppo beh lì poi c'è un tema che vorrei approfondire perché vabbè di sviluppo economico di una nazione che non ha potuto eh ma infatti a cui oggi gli si dice cioè oggi tu alla Cina all'India gli stai dicendo non dovete come si dice consumare emettere non dovete emettere perché abbiamo un problema e loro giustamente dicono ma che cazzo volete fino all'altro ieri gli Stati Uniti hanno emesso come degli stronzi oggi è il nostro turno di sviluppo economico e ci dite di non farlo è legittimo infatti questo è una grande veramente un paradosso odioso della società in cui viviamo tra l'altro la Cina prima si poteva freggiare del titolo di paese in via di sviluppo adesso diciamo che è un paese sviluppato quindi non possono più nascondersi adesso devono pure loro intervenire l'India però l'India è diverso ma ancora peggio in determinati paesi tipo nella zona centrale dell'Africa che poi lo fanno per noi in India si producono la maggior parte dei nostri vestiti in Bangladesh in Pakistan diciamo che c'è un consumismo poi se volete vi racconto anche questa roba perché storicamente è una roba paradossale in cui insomma ci siamo trovati a vivere però comunque tipo da 12 anni durante le cop questi incontri internazionali c'è stato uno di recente novembre 2021 dei supermercati una specie di riunione di condominio di tutti i paesi con i G20 di Roma non c'entra niente con con i G20 che hanno fatto la roba no è una roba dove si affronta principalmente il tema del cambiamento cromatico per dire nella cop 3 hanno firmato il protocollo di Kyoto ok chiaro nella cop 26 che c'è stata a novembre 2021 hanno parlato anche dei prossimi sviluppi tra l'altro l'hanno tutti guardata con molta apprezzione perché aspettavano di vedere degli sviluppi notevoli però ovviamente lì è una roba di trovare accordi e come puoi immaginare la coperta non è larghissima eh no e poi interessi internazionali politica soldi lobby e quindi vabbè in sostanza loro è da 12 anni che stavano provando a stipulare questo fondo cassa diciamo così di 100 miliardi un fracco di soldi da dare proprio a 80 paesi che sono in via di sviluppo 80 miliardi raccolti tra 195 paesi tra cui Stati Uniti una colletta da dare a quei paesi per favorirli nello sviluppo economico ma fargli saltare la fase della carbonizzazione perché ogni paese in via di sviluppo ha bisogno di energia elettrica quella è la base dello sviluppo economico però se tu lo fai attraverso il metodo convenzionale attraverso la linea che è stata tracciata tu devi passare necessariamente per bruciare carburanti fossili se io ti sovvenziono e ti faccio saltare questa fase ad esempio ti faccio passare direttamente al nucleare che è un'energia paradossalmente pulita tu lo stai mettendo e sei in crescita e questo ovviamente permette a tutto il pianeta perché quello che succede in India succede da noi non ci sono confini finanziano le centrali nucleari per l'India si parla di nucleare ma ovviamente si può essere elettrico idrico tutte le fonti rinnovabili e tutto ciò che non può essere coperto da rinnovabili al momento noi copriamo soltanto il 5% su scala globale con fonti rinnovabili deve essere coperto ovviamente da altre fonti energetiche lì sta a te scegliere bruciamo roba e le buttiamo nell'aria o usiamo di alta tecnologia che casomai non piace a tutti però obiettivamente è più pulita e quindi potrebbe aiutare tieni presente che poi ci sono un sacco di paradossi che ci sono anche nel nostro paese ad esempio non voglio parlare della regione però ti dico che c'è vicino un parco molto bello che io tra l'altro frequento molto spesso un sito che è stato individuato per piazzare delle dove? che te lo dico è vicino alle foreste casentinesi ok un posto bellissimo è come se non me l'avessi detto dove cazzo sono le foreste casentinesi? è in provincia di Arezzo tra la Toscana e la Romagna e cos'è? Perugia? di Cesena quindi Emilia Romagna? che cosa? le foreste casentinesi? no sono a Arezzo dietro le montagne Arezzo è in Emilia Romagna? Toscana è difficile che siamo messi male le due 60 km da e dove sorge l'Arno? è a 60 km da Firenze ok ok chiaro comunque lì era stato individuato un sito per piazzare un parco eolico quindi avrebbe generato tipo 80 gigawatt di potenza all'ora che è tanto sarebbe quanto basta per 100.000 famiglie nell'Aperino Toscemiliano è pieno che comunque è poco se ci pensi però è un parco è uno è un passo però ovviamente cosa significa questo? significa che tu deturpi il paesaggio perché piazzi in un posto incontaminato delle paleoliche devi costruire un cantiere quindi devi disboscare per fare la strada devi disboscare per fare quella roba là ovviamente chi abita quella zona si è opposto e qui si crea un paradosso in cui io non so assolutamente con chi schierarmi perché da una parte c'hai nel senso che se tu abiti quella zona ovviamente la ami così tanto non valeva vedere la deturpata però dall'altro canto se noi copriamo a livello mondiale solo il 5% dell'energia la facciamo da fonti rinnovabili significa che dobbiamo moltiplicare i siti che ci sono adesso per 10 e quindi dobbiamo rinunciare all'estetica in qualche modo in alcuni casi sì nel senso lì dove ci sono 5 paleoliche ne dovremmo mettere 50 è guido il discorso il problema è che il cambiamento climatico deturperà comunque il paesaggio cioè non è che se noi non lo facciamo ma infatti secondo me facendo divulgazione e spiegando alle persone cosa si va incontro magari eviti cioè riescono a comprendere che noi stiamo facendo tutto questo per continuare a vivere questo stile di vita qua cioè per continuare a avere il comfort l'agio per avere sempre di più per continuare a mangiare tutto quello che vogliamo vestirci quanto vogliamo mentre potremmo semplicemente iniziare a ridurre i nostri desideri e vivere di meno ma non è umano non si può più perché il problema di quando si parla di questi temi è che devi essere tuttologo nessuno è tuttologo quindi per questo esistono questi team di persone esperti in tutti ognuno porta la sua competenza e insieme e certo perché voglio dire qua non è soltanto un tema scientifico è un tema anche sociale certo perché domani se ci fosse stato qua a Sgarbi ti avrebbe detto le paleoliche sono una merda perché Piero della Francesca e sono argomentazioni mi duele dirlo colorite magari anche valide magari anche valide in un certo senso però devi mettere insieme tutte queste persone anche perché l'animo umano cioè proprio la la psicologia umana evolutasi dopo miliardi di anni insomma di processi evolutivi si è sviluppata per avere come tutte le specie per avere degli interessi personali che sono anche semplicemente il godersi quello che si ha dire a una persona che ha già imparato a godere qualcosa di rinunciarci è impossibile e qui c'è l'altro paradosso che a me sta francamente sul cazzo perché noi siamo stati bombardati fin da piccoli fin da piccoli con campagne pubblicitarie e quant'altro dicevano consuma di più compra di più tu vuoi questo giocatto tu vuoi questa palla tu vuoi questa maglietta tu vuoi questo allora tu le desideravi quando finalmente puoi permetterteli qualcuno ti dice io sono così ragazzi però quando tu puoi permetterteli ti togli questi sfizi ti dicono eh però stai inquinando perché in teoria tu inquini ogni volta che fai qualsiasi cosa mandando un'email tu emetti 19 grammi di CO2 ma che cazzo guardando un file in streaming su qualsiasi piattaforma stai emettendo perché stai usando energia per i server quando ti fai una sega quando ti fai una sega stai inquinando pure respirando emetti un chilo di CO2 non respirare cazzo siamo arrivati a questo punto per assurdo hanno fatto degli studi sai qual è la cosa più ecologica del mondo non avere figli ma ti pare fare questo discorso è plausibile ovviamente eh ma lo diciamo sempre che il modo migliore per salvare i pianeti è estinguerci cioè che poi il pianeta sta bene lo stesso senza nessuno il pianeta non ne frega niente è una palla è un pezzo di roccia bagnato bagnato sospeso così nel vuoto ne ha lui però però è anche vero che il vantaggio giusto per aggiungere dell'ottimismo che sta cercando il grande vantaggio è che noi come specie abbiamo la possibilità di salvare l'ecosistema come non era mai successo prima cioè le nostre capacità di distruzione sono alte ma anche quelle di cambiare completamente le carte in gioco perché quello che possiamo fare va molto oltre solo risolvere il problema di emergenza climatica ora perché se noi riusciamo a risolvere il problema che abbiamo col clima gli strumenti che dobbiamo sviluppare di comunicazione tra di noi di andare oltre l'idea di confini ci porterebbero in una nuova era sì letteralmente noi risolvendo questo abbiamo le porte dell'intero sistema solare davanti a noi possiamo unirci ci aspetta l'universo da esplorare possiamo cambiare abbiamo la possibilità di investire ora in tecnologie che fino a quando siamo andati noi sembravano fantascienza e ora abbiamo di fronte non è solo la scusa migliore è l'imperativo migliore perché letteralmente è la sopravvivenza della vita non nostra e basta ma è letteralmente della vita e se è vero da una parte che se gli umani si estinguessero potremmo essere in un momento in cui la vita come la conosciamo l'ecosistema si riprende dall'altra parte se arriva un asteroide non c'è nessun panda sì sì non c'è un castoro che dice adesso ci penso io ci penso io sì in teoria dovremmo essere i protettori del nostro pianeta siamo gli unici che hanno le facoltà mentali intellettive per poterlo fare per il bene dell'umanità per il bene del pianeta io dividerei pianeta e umani magari quando parli di pianeta parliamo degli esseri viventi esatto in generale sì perché salvare il pianeta cioè il pianeta fai che il tempo 100 miliardi di anni si ripulisce dai o magari non esistere anche più no non 100 miliardi un miliardo ma che 100 milioni di anni tra circa un miliardo e mezzo il sole sarà così tanto più calda di ora più si espande piano piano che farà evaporare completamente gli oceani per cui la terra ha come tempo per avere ancora vita miliardo e mezzo grosso modo al massimo sì però se stronzo lo vedi non puoi metterci una roba di ottimismo e poi buttare infatti moriremo tutti a prescindere trovo inaccettabile il tuo ottimismo di base infatti secondo me non abbiamo instillato abbastanza terrore allora prima di instillare il terrore però ci tengo a sottolineare che il terrore è indispensabile però senza anche l'ottimismo non si va da nessuna parte perché tu non devi essere rassegnato e dire però se non cogli lo stato di emergenza certo il covid secondo me è stato fantastico tra virgolette sotto questo punto di vista cioè abbiamo non abbiamo imparato la lezione però la lezione che si può cogliere non è che è lontano se il problema è lontano non ci riguarda l'abbiamo compreso come un problema lontano dovrebbe riguardare una collettività che non è più di coesione nazionale è una collettività che dovrebbe comprendere tutti e quindi se non fai percepire le persone secondo me lo dico da comunicatore se non fai percepire l'emergenza se non fai percepire che ci sono ci saranno dei problemi concreti nulla accadrà sono d'accordo te l'ho detto sono assolutamente d'accordo il fatto è che in effetti si parla già di come primo traguardo primo step di effetti diciamo irreversibili già nel 2030 perché stando alle stime noi potremmo superare questo famoso 1,5 che si nella versione ottimistica era portato al 2100 già nel 2030 2035 e quindi cosa potremmo già vedere nel 2030 e quindi potremmo subire carenza idrica aumento del prezzo del cibo inondazioni sfollati tantissimi esempio Venezia ce la scordiamo Venezia è una di quelle più a rischio anche più popolari se vogliamo però ci sono dei paesi a tutta la costa ad esempio in Cina che rischia veramente di essere sommersa la Florida hai ragione l'assente vicina hai ragione però 2030 Venezia me la dimenticate no Venezia potreste potreste questo è terrorismo italiano hai capito lo dici Venezia no certo tipo il mose già non serve un cazzo comunque ma quello che potrebbe succedere è Venezia volevate vedere Miami niente Florida no quello che potrebbe accadere si si quello è uno dei si alza a livello del mare certo certo il razzamento a livello dei mari la fregatura è che noi biologicamente siamo bravissime a reagire a minacce immediate che ne so qualcuno tira fuori una pistola e noi ci cagliamo addosso capito questo si perché hai subito chiaro qual è il singolo problema il nemico mentre il cambiamento climatico è più qualcosa di lento che capita con un po' di ecco come l'invecchiamento cioè inizia a dire oissa opla quando ti alzi ti fanno male posti cose parte il corpo che pensavi si si chiaro e poi giustamente è un degrado scusami no 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 poi dicono che c'era no no vai continuo se no mi fucilano continua no è un degrado graduale per cui è facile magari non farci caso e pensare che non c'è una singola cosa per cui tutti ci aspettiamo che il senso dell'emergenza venga dal il 2030 Venezia sparisce ma in realtà il controfregatore è che gli umani sono troppo bravi ad abituarsi per il loro stesso bene per cui vedrai persone che vivranno come normale una situazione che non lo è direi vabbè è normale avere coprifuoco certi giorni quando non puoi uscire fuori perché la temperatura è troppo alta è normale che l'acqua costi magari 5-6 volte spirito d'adattamento si è la lama a doppio taglio se succede gradualmente succede troppo piano piano e non passa il senso di emergenza è come la rana è quell'esperimento della rana che vi è messa a bollire viva ti racconto una storia che a me fa morire ma che cazzo è sta roba della rana se tu metti una rana in una pentola e inizi a farla bollire pian piano rimane lì e muore perché si adatta pian piano e bolle diciamo che lei cercherà di fuggire se gli mette il coperchio a un certo punto cerca di fuggire ah beh perché di natura vuole uscire dalla padella però diciamo che non si rende conto del pericolo man mano che è un esperimento mentale non lo fate con le rana esatto ti dicevo una delle storie che più adoro infatti racconto negli spettacoli ai ragazzi eccetera è una cosa che è successa qui sulla terra che sembra estremamente simile a quella che sta succedendo adesso ma è successo agli albori della vita cioè circa 3,7 miliardi di anni fa dove c'erano soltanto organismi unicellulari che abitavano il pianeta e apparvero questi organismi avevano un solo telefono una battuta alla Luis unicellulari bello bellissimo molto bello mi è un po' ferito però e in pratica c'erano questi organismi che apparvero che erano i cianobatteri erano degli organismi unicellulari che avevano imparato a fare la fotosintesi ora tu immaginati il pianeta come era all'epoca immaginati un cielo arancione il mare era verde una merda e sostanzialmente cioè non c'era ossigeno nell'aria arriva stefatine l'aria era principalmente fatta di gas a fortissimo effetto serra come ad esempio il metano la nitide carbonica il metano è 80 volte di per sé più forte come effetto clima alterante rispetto alla CO2 per far capire quanto è il danno quindi era pieno di metano quindi la temperatura del pianeta era bella calda questi organismi erano nati in queste condizioni però tutti gli altri organismi stavano alla grande perché per loro la vita era il loro habitat certo e in pratica questi qua iniziano a fare la fotosintesi sono i primi quindi prendono l'energia del sol fanno una scissione elettrochimica dell'acqua e ovviamente ricordiamo tutti la fotosintesi e quel processo in cui ci sei H12O6 bravo lo zucchero vero? bravo sono fiero di te no cosa fai prendi il sole e fai diventare ossigeno no in pratica tu prendi il sole l'energia dei fotoni è così? tu prendi il sole e il materiale organico come la CO2 la CO2 la trasformi nelle molecoline adatta all'energia che tu puoi usare per costruire il tuo corpo e metti degli scarti è come mangiare ok non era che diventa ossigeno no tu prendi la luce e no la luce non diventa ossigeno sarebbe fantastico no cos'è che fanno? no prendono la luce e usano l'energia luminosa per fare una reazione chimica ovviamente nella reazione chimica ci sono degli scarti questo scarto di questa reazione chimica è l'ossigeno la cacca delle piante è l'ossigeno noi respiriamo la merda delle piante questa è una cosa che è bello sottolineare vedo con i classici disegnini eh beh sì oh guarda com'è sole limpa ok quindi questi esserini qui quindi questi organismi iniziano a cagare nell'atmosfera ossigeno e va tutto bene ci vuole un miliardo di anni affinché l'ossigeno inizia ad accumularsi nell'atmosfera perché che cosa succede? l'ossigeno veniva cagato da questi organismi però c'erano le rocce porose che lo assorbivano facevano ovviamente degli ossidi i sali disciolti nell'acqua che iniziavano a formare tipo il ferro iniziò a formare degli ossidi precipitò principalmente come i matite quindi il mare divenne limpido immagina nell'epoca che c'erano gli organismi che dicevano ai miei tempi il mare era verde bello adesso è diventato questa monnezza limpida tra l'altro usate le cose in ferro che vediamo molto del ferro che noi estraiamo è stato depositato in quel momento quindi si chiamano iron cioè nel senso se usi qualcosa in ferro ora quel ferro che noi abbiamo estratto dai depositi in sottoterra è stato sedimentato nel mare in quello che era il fondale del mare all'epoca durante questa fase e noi miliardi di anni dopo lo stiamo tirando fuori ma un tempo era sciolto nell'oceano ci facciamo i Mac comunque a un certo punto l'ossigeno non c'era più niente a tamponare questo rilascio pieno di ossigeno e ha iniziato ad arrivare nell'atmosfera e tu dici vabbè cosa mai potrebbe fare no? prima cosa che fa una delle cose è formare lo strato di ozono perché l'ossigeno reagiva con le radiazioni formava l'ozono l'ozono è in grado di schermare dalle radiazioni ultraviolette quindi in pratica arrivava a meno energia luminosa sulla terra iniziato ad abbassarsi la temperatura l'ossigeno poi va a reagire con il metano e forma il CO2 come ti ho detto il metano però è 80 volte più forte come potere clima alterante quindi hai sostituito un gas serra enorme con un potere enorme con uno molto più debole che la CO2 per 300 mila anni 300 milioni forse 300 milioni credo che fossero di anni la terra tanti anni è precipitata in quella che è chiamata glaciazione uroniana dove in pratica è diventata una palla di neve bello e non solo questo ossigeno che è molto reattivo ha iniziato a ossidare a morte anche gli organismi viventi dell'epoca quelli che stavano bene quelli che stavano benissimo hanno iniziato a essere ossidati a morte tanti di quelli si sono andati a nascondere in ambienti privi di ossigeno in ambienti di anaerobi obbligati e questo ha portato quindi a un'estinzione di massa di quegli organismi unicellulari che ha rischiato quasi di uccidere perché ora si sono sopravvissuti c'erano batteri però all'epoca rischiano di morire e a un congelamento della superficie terrestre perché una specie stava emettendo un pochino di gas di questo ossigeno sconosciuto all'epoca che ha alterato leggermente pensa a te il problema è che loro ci hanno messo un miliardo di anni noi stiamo accelerando noi ci abbiamo messo un po' più di un secolo si ok poi noi sulla terra ci siamo da 200.000 siamo dei parassiti possiamo dirlo benissimo diciamo che biologicamente è quello che succede sempre tu inventi qualcosa la utilizzi perché ti piace poi ovviamente ci sono gli interessi che scontrano che cozzano tutto quanto però adesso ecco lo stato di emergenza perché quello che è successo in un miliardo di anni ai cianobatteri adesso sta succedendo in pochissimo tempo tu vedi proprio la curva che è schizzata del cambiamento climatico dell'alterazione di quella dovrebbe essere un'oscillazione naturale delle temperature nelle regi geologiche adesso sta schizzando proprio in pochissimo tempo e quindi ora o mai più siamo proprio a quel punto e quindi arriviamo al punto cruciale ora o mai più pragmaticamente che cazzo questo significa perché noi la nostra transizione ecologica lo sponso di oggi no no non ci pagano sono scherzato sono scherzato è andata a fare in culo Sant'Anna la nostra se volete pagarci siamo qui la nostra transizione ecologica consiste invece che la plastica trasparente ce l'abbiamo verde usiamo della plastica quella è PLA ed è compostabile quello che devi mettere nel compost è un'ottima soluzione normale io avevo fatto una ricerca proprio per sostituire quelle che erano le plastiche al momento utilizzate dalle bottiglie di plastica con una da fonti rinnovabili però nutro comunque moltissimi dubbi a riguardo sarebbe un discorso molto quindi questo serve quella è un'ottima alternativa meglio ancora sai cosa c'è la borraccia usare l'acqua e il rubinetto e la borraccia lo so che è uno scazzo non mi fido però comunque produrre quella un po' di emissione ma questa poi dove devo buttarla nel compostabile che cazzo è il biodegradabile l'organico dove metto le bucce di banana non è biodegradabile quello quindi io sbaglio tutto raga l'ho buttata nella plastica fino all'altro ieri non dirlo pubblicamente che cazzo fai Federico cioè compri la bottiglia di PLA e la butti nella plastica ma è fatta di plastica passa qua passa qua no io la butto tutta nella plastica voglio leggere no tornano loro le raccolgono le buttano vabbè se le butto nella plastica lo vedono che non è plastica poi lo portano no eh no c'è un metodo però non inquina se la butto nella plastica se vuoi dire con il no c'è scritto ho sbagliato tutto dai vabbè vabbè buttatelo nell'organico abbiamo fatto una campagna di sensibilizzazione in questo momento usami come una bottiglia normale ma gettami nel bidone dell'organico ma cazzo scrivimelo più grosso Cristo beh c'è l'omino proprio ma minchia c'è la foto di un bambino gigante metti togli questo cazzo di bambino e scrivimelo gigante no biodegradabile in 80 giorni in 80 giorni torna a essere natura a essere natura il tema un po' fondamentale è questo per quanto il singolo può adottare adesso ho fatto un esempio stupido può adottare toglila che sembra veramente che ho ascolto per quanto il singolo possa adottare dei cambiamenti nel suo privato ti senti impotente la verità è che se i grandi gruppi le grandi lobby i governi gli stati non fanno qualcosa di più ingente è difficile questa è la sindrome come la sindrome del votante in politica che dice il mio voto non cambierà nulla forse in realtà in verità in verità una presa di coscienza collettiva che parte dall'individualità ha un senso perché tu stai crescendo la futura classe politica con un pensiero e una priorità stai crescendo il futuro il futuro sio di una grande lobby con un'idea la verità è poi scontrarsi col duro realismo del cioè la Dubai l'Arabia Saudita tutti i paesi che in questo momento vivono e poche famiglie in cui spendono denari grazie al petrolio che estraggono vai lì a dirgli figlio mio non puoi più farlo non va bene farlo questi giustamente ti ridono in faccia anche se tipo gli emirati arabi hanno compreso credo non lo so hanno compreso che non è infinito il petrolio non credo abbiano compreso questo e quindi hanno già investito loro le loro entrate sono fatte altre però loro continuano lo stesso a inquinare come dei pazzi la stanno ragionando più come una meta turistica cioè stanno cercando di farla diventare una cosa io almeno ho visto però inquinano lo stesso continuano a farlo continuano a farlo il tema è come si può fare e quanto il popolo però può incidere e può uno può smettere di andare a fare turismo a Dubai per esempio per esempio anche per esempio una delle cose che è cambiata tanto e che può fare grande differenza per il futuro è il modo in cui ci alimentiamo la selezione di quello che mangiamo in modo che possa avere un impatto minore per esempio sappiamo già che risorse idriche sono consumate tantissimo per esempio dalla produzione di carne e quindi arriva un punto in cui dobbiamo chiederci quanto effettivamente vogliamo mangiare come quando potevamo inquinare anche perché nel frattempo la popolazione è aumentata tantissimo e continuerà a aumentare fino ad almeno 9 pasta migliaia e di conseguenza consumeremo ancora di più quindi dobbiamo ripensare cioè in quel senso per esempio secondo me una differenza può farla anche imparare a cucinare che è una delle cose che secondo me può fare aiutare tanto perché molte persone sono allontanate da vanno al supermercato e vedono un sacco di ingredienti che hanno un impatto climatico minore ma dicono io con questa roba verde colorata non so che fare dammi qualcosa che metto sulla piastra però posso dirvi una cosa secondo me non stiamo convincendo un cazzo di nessuno no no allora ascolta a parte che io detesto tra l'altro tutte le aziende che ci macciano sopra e fanno il greenwashing no quello sì quello è un problema io preferisco no allora socialmente meno male perché significa che stanno prendendo coscienza che c'è qualcosa di cambiare non è importante però dirmi compra questa cosa perché è sostenibile ma vaffanculo cioè il solo gesto di comprare automaticamente mi sta facendo ripulire poi la coscienza tra virgolette comunque il discorso è che cioè troviamo un nemico allora ecco che è la cosa più facile bravo allora era proprio lì che volevo andare a parlare dimmi chi è lo stronzo che inquina di più e prendiamoci io ti deluderò da morire perché il problema è che siamo in un sistema complesso esatto e quindi non esiste un nemico esistono 300 milioni di nemici che devono essere affrontati in parallelo ora ad esempio ha parlato dell'impatto del sistema agroalimentare questo ha un impatto del 25-30% che è enorme sulle emissioni totali ovviamente la carne ha un impatto maggiore tra l'altro non tutta la carne cioè la carne da bovino ha un impatto maggiore di quella da maiale che ha un impatto maggiore di quella da pollo che però sono sistemi economici che fanno campare intere famiglie e lì ti scontri con quella lì arriva Cruciani e ti dice la Toscana andrà in fallimento però ti posso dire una cazzata dagli anni 60 ad oggi il consumo di cibo pro capite è aumentato di un terzo cioè la gente mangia di più solo che negli anni 60 erano 3,5 miliardi oggi siamo 8 miliardi quasi cioè capito siamo di più e mangiamo di più con tutti i paradossi perché c'è una persona su 10 che è sottoalimentata e 2,5 persone su 10 che sono obese quindi una distribuzione del cibo in maniera a cazzo poi c'è da dire che quasi il 40% del cibo viene buttato e tu dici questa è una cazzata no si è stimato che questo corrisponde a circa 8-10% di emissioni su scala globale tu ci puoi pavimentare l'intera Cina col cibo che buttiamo se tu non lo produci proprio quel cibo risparmi 8-10% di emissioni che è una quantità incredibile pensi ai supermercati quanti ne buttano più andiamo a fondo più mi sembra impossibile no no è impossibile che evitiamo di accendere la lampadina se non ci vediamo un cazzo la sera o che ci neghiamo dei piccoli piaceri perché ormai siamo abituati è impossibile che io mi disinstallo il mio account Instagram perché ogni like che mi lasciano altrimenti è una cazzata lo capiamo tutti quanti così come è impossibile che tu vada da una persona a dire non devi avere figli perché stai inquinando ma chi t'ha morto dice quello giustamente la cosa deve essere strutturata a livello superiore quindi a livello politico internazionale in modo tale che tu faccia queste cose ovviamente limitandoti in determinati modi che ti vengano indotte ti vengano indotte o in alcuni casi forzate forzate cioè è brutto da dire però se siamo in una situazione di emergenza si decide di produrre meno carne si decide esempio come l'ora legale ci sono un sacco di cose in cui veramente io ho paura a impelagarmi perché ad esempio c'è chi propone di mettere una tassa sul carbonio e quindi più costa io per esempio a me mi hanno cagato il cazzo perché ti faccio l'esempio sono proprio sono un inquinatore seriale nel senso che durante mi capita di viaggiare in un aereo privato come l'esempio il punto è quello io lo capisco che per il lavoro che fai tu usciamo fuori dal mio però gli dico è capitato mi chiama Marco Cappato un giorno e mi dice c'è da far firmare questa petizione che credo corrisponda a quello che stai dicendo tu non so la tassa sul carbonio non mi ricordo tu sei andato con l'aereo privato no io gli dissi a Cappato ma io che senso ha che sostengo sta roba che per esempio viaggio con l'aereo privato gli dice no perché la proposta è quella di tassare chi consuma di più in modo tale che stai disincentivando l'utilizzo di di attività inquinanti no e secondo me può avere un senso il tema è che io avevo fatto le storie per per firmare è andato è cresciato il sito e nessuno è riuscito a firmare ah beh hai rovinato la petizione però esiste ancora la petizione magari poi ve la scriviamo perché non mi ricordo il nome perché quella è la figata se raggiungono mi sembra adesso sparo numeri a caso ma mi sembra 200 firme no no un milione mi sembra di firme il il Parlamento europeo è obbligato a discutere la legge obbligato e di che altro dovevamo parlare comunque devi presente che a livello europeo questa proposta è una stronzata no no non è una stronzata assolutamente però ovviamente c'è chi ne pagherà maggiormente le conseguenze non parlo dei ricchi parlo anche del consumatore certo cioè per assurdo la carne diventerà un bene di lusso capito quindi ripeto il consumo di carne rispetto agli anni 60 è raddoppiato mentre noi ci siamo più che raddoppiati ovviamente c'è un problema di fondo perché è anche vero che porca puttana se tu mi fai pagare un panino a un euro da marche varie c'è un problema di fondo come cazzo è possibile l'acqua per allevare quel capo di bestiame non ti costa un euro com'è che mi fai lasciando qualche romne si dovrebbe mangiare solo del gran pollo ottimo la meglio ancora se principalmente mi piace il pollo no perché è quello che inquina di meno comunque io spero che ti taglino questa parte la ossino per la felicità ottimo gran pollo ottimo perché inquina di meno rispetto alle carni rosse le carni bovine se vuoi fare ancora meglio eviti in generale la carne se proprio vuoi mangiare la carne diciamo che la meno peggio è il pollo la meno peggio è il pollo voi quindi non mangiate carne mi pari di capire io sono stato vegetariano per quattro anni poi un certo giorno ho sclerato perché ero a Parigi c'era una mensa del cazzo lì mangiavo un'insalata che puzzava di piedi sono impazzito sono uscito quel giorno e ricordo di aver comprato delle salsicce halal da un ristorante arabo sono arrivato a casa e me le sono mangiate quasi crude almeno dici carne uccisa secondo una sorta un po' di etica c'è stato un dissanguamento però ci ho provato diciamo che mangio meno carne possibile immaginabile non serve che tu diventi vegetariano mi ha fatto consumare di meno ma mangi molto poco però effettivamente se tu alzi è terribile da dire è ovvio è molto classista quello non mi piace però è anche siamo in una situazione di emergenza e d'altro canto cioè sarebbe ancora meglio se tu imponi come una tassa del pane e dici ognuno può avere una bistecca al mese a prescindere che tu sia te la possa permettere un mese in realtà stiamo fantasticando perché non siamo noi dovercene occupare però meno male esatto porca puttana giusto per aggiungere del positivismo questo è che noi abbiamo già affrontato problemi di questo tipo e anche molto più gravi in tanti contesti cioè quando per esempio negli anni seconda metà del novecento abbiamo affrontato il fatto che tante aziende erano fondate sul lavoro minorile il fatto che le condizioni erano completamente invivibili non c'era neanche l'idea di per esempio proteggere in qualche modo i lavoratori l'idea di avere giornate libere pagate abbiamo creato politicamente e non solo le condizioni per affrontare e per togliere per esempio i bambini dalle fabbriche che ora sembrava assurda che avevamo produzione intere di fabbriche e all'epoca sai cosa dicevano non posso perché come faccio a produrre se tutta la mia azienda è fondata su l'avere meno costi e sì e dicevano comunque guarda che facciamo un grande aiutiamo quei bambini perché magari i genitori non possono lavorare loro sono gli unici se tu li togli dal lavoro non avranno soldi quindi noi lo facciamo per loro e abbiamo deciso che era sbagliato che di base se i bambini lavoravano il problema non era che i quali danni crei se li togli dal lavoro il problema era a valle e non doveva esserci la condizione per cui i bambini erano obbligati a dover lavorare quindi se noi è vero che se tu intervieni e modifichi delle cose riguardo a quante emissioni può emettere un'azienda quanto è il massimo che possono inquinare molte aziende per il modo cui hanno sempre fatto le cose si trovano in difficoltà ma per ogni azienda che non può andare avanti con il metodo passato ci sarà una start up che trova un modo geniale per fare quella stessa cosa meglio a un impatto molto minore e incentivi un'ondata di crescita pazzesca bisogna mettersi il cuore in pace secondo me che siccome la coperta è corta è inevitabile che questa transizione ecologica come vogliamo chiamarla farà girare il cazzo a un sacco di gente da un lato e sarà un'opportunità per un'altra se non sono sostenibili e semplicemente qui dobbiamo mi pare di capire che il discorso è complesso proprio perché dobbiamo passare da un'era di capitalismo e di consumismo a una cosa nuova però se ci sono interessi ci sono anche a livello di stati perché se investi subito per prevenire i cambiamenti climatici si è stimato noi parliamo per il documentario a cui è partecipato anche Adrian con una responsabile dell'ABCE Parisi che ci raccontò che se investi subito immediatamente spendi il 2% del PIL mondiale però è quello se aspetti ne spendi il 14% ma ogni anno devi metterci altro che è tantissimo c'è un interesse proprio a livello degli stati c'è un interesse la consapevolezza è importante perché ovviamente se tutta la popolazione richiede una cosa ci interessa a livello politico anche di chi non gli frega niente del cambiamento climatico di applicare però il tema è questo che perlomeno nel nostro paese io non percepisco questa voglia non c'è una presa di coscienza vera secondo me c'è una cosa molto bella che tu hai detto da Shai che è sul ruolo di Greta Thunberry ce la chiamo così perché so che si dice Thunberry ah ok non si dice Thunberg cazzo che figo di merdo è l'unica cosa che so e me la gioco sempre così non c'è sempre il figo per questa roba che uno dice alla fine a cosa serve Greta Thunberg cioè qual è il suo ruolo e giustamente tu hai risposto non è importante quanto lei sia coerente quanto lei ci creda in questa cosa è importante avere un simbolo avere un simbolo che funga da riflettore su un tema ed è una cosa che io mi sento vicino perché mi sono trovato in situazioni simili diverse ovviamente molto più piccole e secondo me in Italia la stessa popolazione non la percepisce come una priorità quando la percepirà come una priorità quando magari in Venezia verrà ragata che cazzo ne so o facendo di voi facendo il vostro lavoro di divulgazione cercando di smuovere le coscienze allora diventerà anche una priorità della propaganda politica ci funziona meglio curare che prevenire per gli italiani no semplicemente non è una priorità ma lo comprendo cioè io faccio parte di quelle persone della stragrande parte preponderante della popolazione che uno non l'ha mai percepita come una priorità e quando l'ha percepita ha avuto la sensazione che fosse inevitabile lo scenario distopico di cui stiamo parlando ormai non tanto più distopico e di conseguenza cioè dire mi faccio trascinare dalla corrente perché è la soluzione più comoda ma se le persone comprendono che una massa che chiede a gran voce a la gente del palazzo che questa cosa è importante allora di conseguenza diventa importante anche per loro e nella merda della propaganda oltre ai migranti da contenere e altre varie cose che funzionano molto bene ci sarà anche questa cosa qui però bisogna far capire alle persone che non stiamo parlando del 2100 perché se dici 2100 la gente non viene fotta una sega stiamo parlando del 2030 in cui inizieremo a vedere cose orribili però se dici 7 anni e mezzo ripeto le stiamo già vedendo il problema è che le stiamo già vivendo le stiamo già subendo molti non le riconoscono ma qui c'è anche un problema proprio legato anche al negazionismo climatico perché ancora oggi ci sono delle persone che instillano il dubbio li chiamano i come si chiama i mercanti del dubbio sono quelli che non è che dicono no non esiste ma non sono convinto eccetera quindi se tu hai paura dei cambiamenti climatici e senti qualcuno che ti dice ma forse non è vero tu ti aggrappi a questa cosa smetti di leggere qualsiasi notizia scientifica teni presente che sono soltanto il 3% della comunità scientifica che supporta ancora il no clima diciamo così quanto il 3% cazzo è tanto beh comunità scientifica però le stime variano dal 3 al 7% però ricordati che comunque stiamo parlando di una comunità scientifica che in genere deve essere ascoltata come unisono è ovvio che ci sarà sempre una percentuale anche sull'acqua fa male ci sarà sempre una percentuale che ti dirà il contrario capito però a livello storico è stato un casino perché quando iniziarono a parve il report charnet erano gli anni 80 anzi gli anni 70 gli anni 70 sì le aziende petrolifere americane iniziarono a spaventarsi perché ovviamente stavano per perdere tutto il loro appoggio e non fa mai bene il business se ti vengono a dire che quello che tu produci sta ammazzando o distruggerà il pianeta e quindi inizialmente ci fu un po' di panico tra quelle aziende ma ci fu anche chi intercettò il problema e disse dobbiamo intervenire dobbiamo cominciare una transizione eccetera tra cui c'era Lexon che sembrava stesse prendendo seriamente il problema chi cazzo è Lexon? è una delle più grandi era una delle più grandi società petrolifere società petrolifere americane solo che poi successe un casino ci fu una crisi economica problemi politici eccetera e tutto cade il dimenticatore tanto mancano un sacco di anni passarono arriviamo agli anni 80 erano gli 87 forse si era in vista di quello che poi ha portato il protocollo di Chiotto in sostanza che successe questi qua cambiarono linea iniziano a negare tutto iniziano a instillare il dubbio si formò addirittura una coalizione che era la GCC che sta per Global Climate Change o qualcosa del genere non mi ricordo però in pratica erano un'associazione di lobbisti che avevano il compito si è sciolta nel 2001 è ufficiale i lobbisti sono normalissimi nella politica sono le persone che vengono chiamate per dare quindi finanziavano campagne elettorali no ma questi tizi oltre a aver probabilmente essere stati la causa tra le tante cause per cui l'America che era uno dei paesi più impattanti all'epoca 40% delle emissioni erano americane non firmò il protocollo di Chiotto che fa ridere americani siete dei pezzi di merda ma poi tra l'altro furono quelli che cercano in tutti i modi di rallentare la transizione di convincere persone ci furono addirittura delle aziende petrolifere tra cui la Western Fuel Association che finanziò degli scienziati chi genuinamente non ci credeva lo finanziò chi ci credeva lo pagò per dire il contrario e fondarono dei giornali per tutti incentrati sulla negazione del cambiamento climatico ma questa cosa è arrivata anche a me nel senso io percepivo politici che dicevano stiamo parlando di niente l'effetto Serra non esiste è diventato poi mainstream però è incredibile come parta dai tavolini così piccoli e poi arriva fino a noi sì no dico da tavoli nascosti per poi arrivare fino a noi però adesso stavo ragionando alla fine uno deve mettere sulla bilancia i due scenari cioè da una parte è uno scenario di sacrifici uno scenario in cui inevitabilmente questa transizione avrà degli impatti su chi produce su sull'economia creerà dall'altra parte delle opportunità per qualcuno sarà sarà un problema dall'altra parte invece è un dito in culo per tutti ma no non so come dire dall'altra parte se l'acqua diventa un bene di lusso quello che deve coltivare la carne inevitabilmente dovrà far alzare il prezzo e quindi anche la carne diventerà un bene di lusso cioè quindi lo scenario che stiamo proponendo per risolvere non è diverso allo scenario che ci porterà se non faremo qualcosa ha senso quello che sto dicendo assolutamente o è così o è così è anche peggio però da una parte stiamo rinunciando a delle cose per evitare di crepare e di avere migrazioni di massa dall'altra parte c'è tutto c'è sia quello a cui rinunceremmo più un altro pacco di merda ha senso quello che sto dicendo no no assolutamente così allora per spaventare alcuni italiani basta dire attenti che c'è una migrazione di massa hai visto Don Luke Up il film si l'ho visto si basa tutto su questo sul fatto che sta letteralmente arrivando un meteorite e lì lo vedi cazzo però la gente non lo prende questo è proprio quello che sta dicendo devo correggere sui termini asteroide asteroide meteorite con dentro trovi sulla testa e qui ho una domanda per Adrian io sono messo scherzo come concigli questo tuo attivismo posso chiamarlo attivismo sui cambiamenti climatici è questa tua passione per dei razzi che inquinano tantissimo ma allora domani inquinano tantissimo no no certo qualsiasi industria al momento inquina molto più di quanto potrebbe fare quindi è molto difficile essere appassionati più o meno a qualsiasi cosa che non inquini che non inquini manco all'aria può essere però allo stesso tempo quello che facciamo per esempio i razzi in un anno vengono lanciati 130 massimo grosso modo mentre per esempio in un anno ci sono circa un milione e mezzo di voli che sono tantissimi e portano più di un miliardo di persone e quindi l'industria dei aerei insomma l'industria aerei inquina molto 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 ordini di mani di più di quanto fanno i razzi io mi rendo conto che poi dopo inquinano e ci danno fastidio alcuni in particolare quando vengono usati tipo da milionari per farsi esatto lo scenario brutto è quello del vatti a fare un giro nello spazio ecco magari non è il momento è un'attività particolare come sono tante crociere ancora e quindi da questo punto di vista sì c'è molta spinta per cambiare modo di fare i razzi quindi per esempio se la SpaceX riporta a casa il razzo il grosso impatto è che non deve costruirne uno nuovo e quindi ha diminuito molto l'impatto di estrarre il titanio ferro alluminio e quindi da questo punto di vista aiuta l'altra cosa fondamentale è che noi per capire come cosa sta succedendo al pianeta e come possiamo intervenire abbiamo bisogno di dati abbiamo bisogno di satelliti che ci permettono di vedere dallo spazio quindi è uno di quei tra virgolette mali necessari al momento mentre stiamo transizionando questa cosa comunque la guardi fa male cioè qualsiasi bisogna trovare la soluzione per fare un po' meno male tutti dovrebbero trovare le industrie tu raccontavi una cosa bellissima da shy di questo carburante per gli aerei infatti ti voglio raccontare che comunque c'è dell'ottimismo però non è un ottimismo a breve termine ti stop a stare accanto a me basta ottimismo adrian morte no scherzi però il discorso è che ci sono vari progetti in atto che cercano in qualche modo di rimuovere la CO2 che questo è l'obiettivo perché l'obiettivo è loro si sono dati come tempo massimo limite il 2050 per emissioni zero è troppo cioè già il 2050 siamo nella merda però dopo bisogna addirittura allevare la CO2 che già abbiamo rilasciato dall'aria e quindi ci sono un sacco di progetti in corso tra cui c'è questo meccanismo fotochimico che cattura la CO2 e praticamente attraverso una lezione che si chiama Fisher-Tropsk dove la CO2 viene fatta reagire con se stessa per ottenere del carburante che in pratica è CO2 stessa quindi quando bruci quello riemetti CO2 zero e il ciclo è zero siamo nella carbon neutrality i problemi sono tantissimi uno perché bisogna di energia quindi utilizzano l'energia dei pannelli fotovoltaici che però non è sufficiente allo stesso tempo il problema più grande nel fare queste reazioni queste cose è catturare la CO2 la CO2 si parla in ppm perché la percentuale nell'aria è di 0,04% cioè è proprio super rarefatta come cazzo la catturi e quindi l'idea è di mettere enormi sacchetti e di Luisa ha risolto il problema dai perfetto loro vogliono mettere le ventole per catturare la CO2 direttamente dove viene prodotta ad esempio una ciminiera di un in ah ok chiaro perché è più intensa è più meno rarefatta e sia per il pianeta a quel punto diventa un filtro il problema però rimane sempre che se c'è una una ciminiera stiamo comunque bruciando i fossili che una minima parte viene catturata per farci cioè c'è sempre questo discorso l'altra roba ad esempio è l'idrogeno no? sentite un sacco sentite un sacco parlare dell'idrogeno pulito perché effettivamente quando bruci come combustibile l'idrogeno il prodotto di scarto è acqua quindi è pazzesco c'è solo un problema l'idrogeno al momento lo produciamo dal metano cioè praticamente per prendere l'idrogeno devi inquinare però poi l'idrogeno che c'hai non inquinare è pulito è allora che cazzo dici che è pulito il metano è CH4 ed è quello che inquina di più dicevi vabbè diciamo che se lo fai così non arriva più però rimane il fatto che tu stai usando un combustibile fossile che di per sé se ne sta per i cazzi suoi non potresti non usare per produrre l'idrogeno c'è però un'alternativa è dell'elettrolisi dell'acqua wow questa è una cosa banale l'aveva trovata già Galvani volta con una pila mettevano gli elettro abbiamo iniziato dicendo che siamo galvanizzati galvanizzati Galvani bolognese quello che ha inventato il galvanino mamma mia io me ne vado è la piccola b Galvani era Frankenstein ma sento dello scoppiettio no Galvani era una sorta di Frankenstein che rianimava i cadaveri si lo facevano le lane c'erano stati dei dissing pesantissimi con Volta all'epoca erano nemici giurati entrambi lavoravano sull'elettricità avevano visto che c'era delle pezze di rani si muove le gambe di rane morte si muovevano se lavoravi in un certo modo con certi fili di rame però ci hanno messo un po' tra l'altro continuavano a litigare tra di loro vabbè ha vinto Volta ci ricordiamo Galvani voi sapete chi è ma nessuno sa chi povero Galvani ha vinto Volta possiamo dire ha fatto la prima batteria vabbè dicevi quindi l'elettrolisi che stavo dicendo e quindi c'è sempre il problema da dove la prendi l'energia elettrica se l'energia elettrica la produciamo dai combustibili fossili comunque inquini allora hanno detto mettiamo dei pannelli fotovoltaici e facciamo questa roba ci sono già quattro siti al mondo che stanno facendo questa roba qua producono pochissimo idrogeno però poi l'idrogeno non lo usano di per sé così com'è lo fanno reagire anche con la CO2 facendoci altre reazioni altri combustibili come metanolo eccetera processi ci sono già in atto e poi c'era un'altra soluzione molto figa che era quella di spingerlo pomparlo sottoterra facendolo reagire con il calcare chi pompi sottoterra pompi sottoterra l'anidride carbonica quando lo disciogli in acqua diventa acido carbonico carbonato ok quindi loro propongono hanno proposto e stanno realizzando di spingere pompare quest'acqua calda contenente satura proprio di anidride carbonica sottoterra i giacimenti molto porosi che ci hanno casomai dei metalli per produrre dei carbonati che poi depositano e rimangono là quindi rimuovi la CO2 e la fai la deposita quello che fanno gli oceani per conto loro solo che noi vogliamo farlo più velocemente l'unico problema è che il processo richiede due anni per essere completato e che ovviamente va bene può essere ottimizzato un anno e mezzo però ovviamente il problema è che comunque ne levi pochissima non è che è una soluzione a lungo termine quindi questo comunque per dire che ci si sta lavorando c'è chi ci lavora attivamente e se tu metti questo sullo stesso piatto della bilancia e dici ok questo lo sappiamo fare adesso però la tecnologia va avanti velocissimo magari fra dieci anni riusciamo a farla meglio o abbiamo trovato un altro metodo purtroppo sono 20 anni che stanno sull'altra roba quindi immagino che ci vorrà un casino vita non puntiamoci non siamo troppo ottimisti però rendiamoci conto che c'è gente che lavora e che sta cercando di realizzare queste soluzioni ma non basta se dici così poi uno dice ci sta pensando loro capito appunto non basta assolutamente vi posso fare una domanda del cazzo perché fino all'altro ieri tra l'altro volevo dire una cosa volevo flexare questo mio gesto di attivismo che hai fatto ecologista per la nuova serie tv mia mi avevano proposto di andare su spacex e lanciarmi e ho pensato è una stronzata a parte che mi cago sotto il motivo principale è questo però in realtà che cosa stai comunicando all'esterno cioè non ha senso fai cose fighe in cui un casino sì però non ha effettivamente senso ecco i viaggi turistici nello spazio possiamo dire sono una stronzata se vedete un vostro amico ricco che lo farà diteli sei un coglione sappi che stai facendo piangere Adria perché lui aspettava la chiamata il viaggio nello spazio penso che il turismo spaziale è una figata è bellissimo non è al momento per come viene fatto sostenibile quindi stiamo attraversando una fase ora in cui i problemi che abbiamo sono piuttosto più importanti che andare a farci un giro nello spazio non è il problema di andare allo spazio perché sono convinto che sia bellissimo no ma sono d'accordo la domanda che volevo farvi è ultimamente non so percepisco questa cosa se fino a ieri ti compravi una macchina elettrica avevi fatto una cosa buona adesso ti dicono ma la batteria non inquina no cioè non è che non inquina ovviamente qualsiasi cosa inquina ovviamente c'è un problema di risorse perché le batterie principalmente sono fatte di litio e cobalto hanno bisogno di questi minerali che devono essere estratti adesso abbiamo una crisi elettronica pesante anche se vuoi comprare la tematica elettrica non la trovi sì però il fatto è che questo è lo step indispensabile per portarci alla decarbonizzazione se vogliamo eliminare i combustibili fossili dalla nostra vita per sempre prima di essere pienamente efficienti dobbiamo fare in modo che tutti abbiano siano predisposti ad utilizzare questa nuova forma di energia se per dire oggi diciamo ok basta non vedevo più benzina rimangono tutti a terra cioè c'è un disastro capito ma infatti sarebbe stato fantastico se avessimo iniziato già decenni fa in teoria avremmo dovuto iniziare tipo 30 anni fa la notata io la percepisco questa cosa come se fosse un po' di propaganda che mi arriva per osmosi dici le batterie le batterie fanno male lo stesso si non lo percepite il tassista stavolta ti ha detto questo sta circolando sta roba fa un culo non la prendo la macchina elettrica perché tanto inquina lo stesso si non inquina zero però inquina meno inquina meno e stiamo stiamo facendo parte del processo di decarbonizzazione che è fondamentale esatto allora non è più quindi non è vero la roba della batteria non rompete i coglioni io ho sentito anche qualche politico dirlo adesso è un processo di investimento che stiamo facendo sulla società perché se ci eliminiamo completamente da questo bisogno di avere combustibili fossili e portiamo tutto sull'elettrico anche se adesso ripeto non è efficiente prossimamente lo sarà però è indispensabile altrimenti non arriviamo proprio a quel punto dobbiamo eliminare del tutto questa c'è un meccanismo psicologico che blocca spesso dibattiti riguardo a questo che è il pensare che l'unica strategia che puoi seguire per cambiare è solo se ti porta al massimo successo e quindi è molto disfattista pensare che vabbè ma se faccio questo posso risolvere completamente il problema? no allora non lo faccio però tra quello il miglior caso possibile e quello che succede ora c'è la via di mezzo in cui va un po' meglio e vale la pena fare le cose un po' meglio anche perché in realtà di nuovo non è che non paghiamo le conseguenze le pagheremo lo stesso tra l'altro da questo punto di vista ora noi come specie stiamo affrontando di gran lunga il secolo secondo me più difficile che abbiamo mai affrontato perché abbiamo tutti i problemi tutti quanti insieme quindi abbiamo il cambiamento climatico ma allo stesso tempo dovremmo affrontare il modo in cui produrremo tutto quanto per il futuro la robotica l'intelligenza artificiale le modifiche genetiche la destabilizzazione geopolitica cioè i paesi che noi come li conosciamo sono nati nel 7-800 e ora iniziano a perdere di senso per 10 miliardi di persone tutti i problemi che ci siamo creati tutti i problemi nostri non è il predatore che ci sta inseguendo siamo noi e a questo si aggiunge il fatto che noi come specie siamo coscienti della nostra condizione e quindi abbiamo oltre a questo il fatto su questo non sono molto d'accordo sulle serie coscienti della condizione di queste condizioni che hai elencato non tanto delle condizioni fisiche dell'essere quindi hai problemi che riguardano il senso della vita che ci faccio perché sono qui perché dovrei continuare sembra una cosa da poco ma è molto legato al modo in cui noi ci immagineremo per il futuro e se tu non ti immagini che la specie umana o comunque te come individuo possa mai raggiungere qualcosa che riguarda la felicità o trovare un senso è difficile affrontare con ottimismo questo cioè noi secondo me sottovalutiamo tantissimo quanto quanta differenza può fare il non solo l'impatto tecnologico cioè cambiare le cose tecnologicamente ma anche darci ritrovare un senso che ci dia felicità perché la essere felici è una delle cose che diminuisce di gran lunga l'impatto ambientale perché se ci pensi più sei infelice più cercherai di riempire quel buco consumando questo è vero trovare qualcosa che ti rende felice nel tuo piccolo consumismo si basa in questo ti deve produrre un'infelicità che devi scolmare con il nostro prodotto esatto trovare un senso della tua vita cercare di essere felice trovare un'altra persona con cui sei felice è una delle cose più rivoluzionari e secondo me più punk per salvare il mondo possibile cioè riuscire a bastarsi e a farsi bastare ciò che si ha non è per forza non avere gli oggetti e basta ma non non vedere in quello la soluzione per il vuoto dentro perché quello ce l'avrai comunque qualsiasi cosa hai di oggettistica quel senso di quando vai la notte a casa e dormi e ti chiedi che senso ha o tutte le persone intorno a me a cui voglio bene prima o poi non ci saranno più e quel senso di frustrazione quello è umano quello è la condizione umana di miseria con cui dobbiamo convivere fa parte di essere coscienti la vita è una merda però se trovi un modo di convivere con quello e per questo penso che ti puoi investire in salute mentale sia fondamentale in questo periodo di transizione è un punto bellissimo volevo proprio che andassimo in quella direzione lì perché effettivamente cioè io penso proprio alla radice del problema c'è il fatto che noi vogliamo di più per quale motivo vogliamo di più una nevrosi di massa sì perché noi vogliamo adesso trovare modi alternativi di continuare ad avere di più di continuare a vivere come viviamo quando se facessimo proprio un attimo di analisi di psicanalisi magari potremmo immediatamente diminuire l'impatto solo grazie a della felicità o a della soddisfazione trovata in altre cose quindi anche gli psicologi e gli psichiatri potrebbero essere fondamentali per questa transizione certo certo sapete chi ho pensato anche i comunicatori sai chi ho pensato che sarebbe utile in questa causa infatti voglio fare un appello chi papa francesco no cioè quante stronzate spara inutili no scusa non è il modo che lo stavi invitando in questo modo stavamo parlando che sia riuscito male parla avanti chi ha insultato papa francesco volevo fare un appello ma mi è uscito male volevo dire ma quanto sarebbe bello se papa francesco nelle sue omelie ci desse ai suoi fedeli come incipit che questa cosa è una priorità ma dai tu ma io lo sto facendo il mio ma cazzo il papa se lo fa il papa oh quante cagate dici ogni domenica che non serve niente tipo l'amore è bello guarda che spesso il papa è ascoltato da delle popolazioni fate dei figli ha impatto ha impatto leggero secondo me io me le immagino l'ascoltatore medio del papa me lo immagino un peruviano un peruviano un messicano con il mulo ma perché mi immagino così ma cosa stai dicendo mi immagino così l'ascoltatore del papa è un peruviano un messicano con un mulo con un impatto comunque se il papa facesse un appello su questo tema i nostri ascoltatori sono dei consumatori sicuro ma noi infatti lo stiamo facendo dico stavo esortando il papa sua eminenza ma noi non ci ascolta non credo che ci ascolta ci ascolta ci ascolta non lo so papa Francis lo invitiamo qualcuno può contattare il papa per favore Francesca puoi contattare il papa il numero io potrebbe venire spaccherebbe sai se invitassimo il papa qua che figata però potrebbe dire cioè sarebbe fondamentale dovrebbe farlo sicuro ha parlato di ambiente no cerca ha detto una cagata sui figli recentemente poi ha detto che se il suo amico insulta sua mamma gli darebbe un pugno e basta che la chiesa spende un sacco di soldi basta azioni scelerate ne siamo tutti consapevoli il male che stiamo procurando al pianeta non si limita più ai danni sul clima sulle acque sul suolo ma ormai minaccia ho capito ma dimmi qualcosa di più figa poi ha aggiunto la vita stessa sulla terra amo Bologna posso dire una cosa il papa dovrebbe secondo me esporsi solo su questo no sul balcone fare una roba tipo un po' muschio selvaggio cioè invita delle persone cioè non è dire sta roba sull'ambiente dai una cagata inviti uno che ne sa più di te e lo fai parlare la vita sulla terra è minacciata tu ci andresti sai che figo forse prendo fuoco dai dai lo dice spesso io l'avevo sentito dire sbagliate volte ovviamente lo dice a modo suo però va bene scusa papa scusa scusa vabbè però il discorso è anche il discorso del quello che noi viviamo non è uguale su tutto il pianeta cioè ci sono già delle popolazioni che cazzo non hanno tipo un miliardo di individui che vivono in aree rurali non hanno elettricità eh sì capito quindi è tutto molto complesso tu dici vabbè dobbiamo dobbiamo ridurre dobbiamo ridurre ma sti qua che cazzo non lo ridurre eh sì centrali nucleari cioè centrali nucleari quindi mi state dicendo che è ok allora ovviamente stiamo parlando di tecnologie nuove non delle centrali nucleari vecchie che a livello statistico sono anche super apprezzate da chi ce li ha da chi non ce ne ha c'è la paura ovviamente perché noi tra l'altro siamo cresciuti con i simpson abbiamo un'idea della centrali nucleare un po' sbagliata vabbè poi cernobil non è così lontana un fatterello che è successo però per dire quel fumo che esce dalle ciminiere non si chiama ciminiere non mi ripieni vabbè insomma quel coso dei simpson in realtà è il vapore acqueo che serve per semplicemente raffreddare quindi io sai che da giovane non emette niente sai che da giovane io c'è stato un periodo che c'era il referendum abrogativo anch'io ho votato no io ho fatto proprio la canzone contro vota sì per dire no al nucleare perché dovevi dire alle gente sì 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 per dire no quindi ho fatto la canzone per far comprendere che era abrogativo io ho sceso in piazza contro perché capito tutti quanti noi all'epoca non è che noi dicevano le scorie non sappiamo dove cazzo metterle poi effettivamente dopo cioè io avevo paura che esplodessero però poi ho scoperto che abbiamo i francesi di là che se dovesse esplodere una centrale in Francia siamo della merda uguale no ma non esplode io sono andato a visitarle quelle che stanno in Olanda e sono delle farmacie sono praticamente inimmaginabili cioè tu non te le immagini così abbiamo una visione del centro nucleare che è sbagliata un po' russa no ma stiamo parlando di cose tutte automatizzate dove tutto ha 30 livelli di controllo non ci sarà mai più un incidente cioè per dire Fukushima è successo per un incidente ambientale ma sai cosa potrebbero fare colorare o rifare un po' il branding della cimigliarona fare dei fiori come facciamo arancione cioè fare delle cose strane fuori capito ho quella struttura lì perché fondamentalmente quando tu prendi dell'uranio e lo spezzi e liberi un sacco di energia per fissione nucleare quell'energia riscalda l'acqua quando riscalda l'acqua crea il vapore ecco lì è il vapore la vaporiera tu in realtà potresti fare i fumenti i fumenti sopra la canna ah sì sì hai il raffreddore ti metti sulla centrale poi sai quando devi schiacciarti i punti neri non mi è mai successo devo provarci però boeri che ne so se boeri vuoi mettere degli alberi sulla centrale poi se da qui alla fine del secolo troviamo un modo per avere fusione nucleare in cui fondi insieme nuclei atomici quello è assurdo cosa vuol dire il bosone di no cioè prendi due il sole il sole produce energia fusione fondi cosa succederebbe e produce un sacco di energia in più ma più che altro non hai il rischio di meltdown la centrale non può non può cadere non è che esplodiamo nel farlo no abbiamo già fatto il problema è tipo controllarlo perché le bombe atomiche a idrogeno per esempio funzionano a fusione in quel caso ma abbiamo prodotto fusione sulla terra sappiamo come si fa ci sono alcuni che l'hanno fatto anche in garage c'è ragazzi di 14 anni che hanno fatto una mini centrale nucleare no beh sto esagerando i termini non fate la casa non fate la casa mi prego però l'idea è che il problema è cercare di creare un stabilizzarlo si ma che produca più energia di quanto ne metti è quello se riesci perché se ti serve ti serve un watt per produrre un watt di energia si serve a niente nel senso che non fai però se con un watt riesce a produrre 10 watt di energia fantastico perché emetti come un investimento ne dai uno e non abbiamo scorie con pochissime scorie con dove cazzo le mettono le scorie radioattive adesso beh ci sono dei protocolli che sono militari in pratica attorno a Napoli Luis questa la tagliamo pirla ma dai dove si mette io credo si faccia così vabbè no comunque credo si faccia così almeno io a me è così è insegnato questo paese bellissimo c'è un problema enorme tra l'altro perché anche se scegliamo il posto dove metterle non abbiamo idea di come comunicare che quella roba è pericolosa a chi le troverà tra 15-20 mila anni e se l'umanità io ho un'idea mettiamo un adesivo sopra eh ma non ti metti con l'assa alla civiltà è così facile magari parlano un'altra lingua devi scrivere proprio fai il teschietto tu fai un teschio con le ossa sopra e se loro vedono il teschio con le ossa e loro i teschi li usano per fare musica perché lui è l'ottimista però ci ha già dato per spacciati una nuova civiltà è arrivata e trova le nostre scorie e questo è l'ottimismo proprio se voi se voi a scuola che ne so ora magari avete tantissima passione verso qualcosa e vi dicono tanto non ci riuscirai perché tanto è stato tutto già fatto ci sono artisti molto più bravi di te non ti mettere a cantare non potrai mai fare un pezzo così non dati di retta non dare retta e dedicarsi a quello che davvero ti rende felice è una delle cose secondo me più importanti per il prossimo secolo perché se noi non riusciamo a trovare la soluzione là fuori qualcuno che ora è a scuola che magari è all'elementare potrebbe essere una delle persone che collaborerà e farà tutta la differenza per il mondo magari per un'invenzione che farà o magari semplicemente perché comunicherà in un modo nuovo più efficace tutto questo e ora c'è un adulto che gli dice no non lo fare oppure non è inutile o tanto comunque andrà male e basta quindi incentiviamo ribellarsi al senso di angoscia essere artisti e andare avanti con i propri professioni è una cosa più figa quindi se vi danno un quaderno e vi dicono scrivi il tema perché ci sono delle linee intorno e volete girare la pagina e scrivere al contrario perché sti cazzi io ho tutta la stima del mondo siate voi stessi se volete scrivere più gigante consegnarlo alla maestra siete ancora più proprio non lasciatevi insieme una forma d'arte comunque sì io da piccolo volevo darmi al cannibalismo e me l'hanno impedito sarebbe sostenibile no sarebbe stato molto sostenibile cazzo è vero il cannibalismo però meglio adulti o bambini sai quanti nonni buttiamo via dipende da quanto sono teneri secondo me il nonno ogni persona morta è carne sprecata un bodybuilder tutti i muscoli buonissimo zero grasso però non dopato possibilmente ma non si accumula ma invece no perché così mangi e sei anche tu un po' dopato quindi mentre mangi ti palestri bello mi piace sarebbe una soluzione ai miei problemi mangiare gli umani mangiare gli umani potrebbe essere c'è una storia assurda di due che sono scappati dal Siberia da un campo dove erano chiusi e hanno portato con loro per aiutarsi a fuggire dalla prigionia il cuoco che li ha aiutati a fuggire e hanno portato con loro il cuoco e l'hanno mangiato quindi il cuoco era convinto che l'avessero portato via per scappare anche lui invece l'hanno portato per mangiarselo proprio il cuoco perché era era un predestinato era è associazione semplice era proprio il cuoco tu sei il cibo tu sei ha detto lui cibo tu mi hai dato il cibo e ora diventi il cibo è bellissimo no è stato così erano nel nulla hanno detto quindi il cibo non c'è e l'hanno mangiato però è facile convincere vieni che dobbiamo abbiamo bisogno dobbiamo cucinare tecnicamente ma qual è il cibo sei tu il cibo va bene ringraziamo Adrian Fartade e Barbascura per essere stati i nostri ospiti a Muschio Selvaggio grazie mille ragazzi speriamo che questa puntata sia stata in qualche modo utile sì 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 io me lo auguro portatevi sempre un cuoco e mi raccomando cannibalismo sì sempre grazie mille ragazzi grazie mille ragazzi grazie mille ragazzi grazie mille ragazzi